Si potrebbe immaginarvi in questo momento che rappresenta il nostro Stato, la Repubblica Italiana, quindi in questi momenti quanto può essere sollecitata di essere passata qui e di stare con noi questa sera. Darei subito la parola al nostro Consiglio Generale d'Italia e poi Roberto, il professor del Gaudio, continuerà. Sono state selezionate quattro regioni, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e la Campania e questa sera, grazie appunto alla Baia da Marti, per rappresentarvi quella che è... ...un progetto che permette di scoprire una parte del territorio a partir di un soggetto specifico. In questo caso è la mer, è la mer a partir di cui possiamo scoprire questa parte del nostro territorio e in verità di scoprire il patrimonio importante, importante che existe in questa parte dell'Italia e che è s'efforzata a partir di una mer. Perché il corso di scoprire, le scoprire, le scoprire, le scoprire, eccetera... ...e hanno deciso di trasciare a un certo momento da loro scoprire... ...e hanno deciso, sono venuti verso l'Occidenta e si sono installati in quasi tutto il sud dell'Italia. Celle che prego ad ammogliare le persone a trovare anche la provincia che è al sud di Salle di Mar, quindi la provincia di Salle, che ha delle cose molto belle e anche altre ricette artistiche importanti, come stessi, come vi vorrei tutto a l'altro, le templi grecchi sono completamente conservati perché erano in un territorio... ... ... ...